SONO VIVO! SONO VIVO! SONO VIVO! SONO VIVO! Grazie per il servizio, bellezio! SIS! SIS! Non dirlo a nessuno, chiaro? SONO VIVO! Non posso far sapere che offro i miei servizi a gente a cazzo? SONO VIVO! Erano soldi veloci, ok? SONO VIVO! Come preferisci? TROIA! Au! Oh, ma che insusta... S-s-signistra... Stai cercando rogne? VECCHIETTO! PERCHÉ NON PARTI VIA QUESTA MERDA DI FERRO 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 MERDA Buon pomeriggio, sono KPK Joy Ed io sono Germano Mosconi Ma vediamo il quadro completo Brescia, Foggia, Caleri, Roma, Fiorentina, Milan, Genova, Atalanta, Inter Dio, porco di Dio Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che cosa c'è? Ah, dovevo un favore alla mia cessa Non è una cosa da brave persone? Uccidere i propri amici? Non provocando scontri che risultano in un genocidio territorio di... Beh, uccidi Che c***o è scritto, figlio di p***a? Porca madonna, porco di Dio, porca madonna Libra, io vado dietro a vedere i little pony a fine primo tempo Ehi, Peggy Che c'è? Come c'hai alla porta? Cosa? Ehm, chi? Che cosa devo fare? Oh, beh, non farlo entrare Ciao, mister Antipaticchi Io sono una persona che ha deciso di fare live giornaliere per raccontare la propria condizione Praticamente io sono nato con... Gli amici Fermo dove sei? Capronico di Pepe Io so che sei Sei E non ne f***i Pensavo tu potessi tornare Amore Amore Noooooooooooo Che f***o è un piede a te? Dio, vieni Puoi ripetere? Che f***o è un piede a te? Dio, vieni Quindi... Vuol dire che credi sia possibile... ...sopare un demone? C'erroi! No 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 no! Non penso ci sia niente che possa salvare quei peccatori! Si sono giocati la salvezza in V e la punizione è... questa! Allo la... Ok, quindi Al... sei morto? sei gay? No! Niente strette, niente patti, niente pazzi! In quanto principessa dell'inferno ed re del trono, io ti ordino di starci per quanto tempo vorrai. Che ne dici? Mmm, mi sta bene! Au! Au! Oh cielo! Splendido!